Il primo oggetto è sicuramente stato negli anni 70 un pupazzetto di Fonsi che era in Italia abbastanza diffuso e poi da lì c'è stato l'album delle figurine, dei libri, materiale che ai tempi uscì in Italia. Lo sviluppo della collezione si è stato un po' negli anni, si è amplificato, diciamo, fine anni 90, inizio anni 2000 e comunque grazie anche poi all'avvento di Interna ha facilitato un po' i contatti con l'estero e poi il fatto del Guinness ai primati è stato un po' casuale, nel senso che un mio amico che era nel Guinness per altre cose mi ha detto ma perché non lo fai e da lì è nato. La situazione più piacevole tra i vari incontri che ho avuto è stata quella della riunione per i 30 anni e registrarono un programma che diventò uno special tv e questa registrazione durò due giorni perché fecero una partita di baseball vera e poi fecero le riprese negli studios e questo era stato molto particolare, erano stati due giorni dove c'erano tutti gli attori del cast, della produzione, eccetera quindi sicuramente è quello un po' più particolare proprio per la presenza di tutti in contemporaneamente. Grazie a tutti